ciao a tutte ragazze benvenuti a questo mio nuovo video allora cosa vi faccio vedere oggi come avrete letto dal titolo questo video è anzi il primo di una serie di lunghissimi video riguardo le mie scorte mi sono accorta che l'ultimo video sulle scorte l'ho fatto ad agosto giusto quando ho aperto il canale in modo appunto da presentare un po i prodotti che avevo e vi faccio un po vedere in questi mesi cosa è cambiato faccio anche un attimino per rendermi conto io di tutti quanti i prodotti che ho come sapete sono in stop gli acquisti per quanto riguarda il beauty quindi non acquisto bagnoschiumi shampoo prodotti corpo prodotti capelli zero quindi se compro qualcosa vedrete abbigliamento e makeup per il resto zero e questa prima puntata riguarda i bagnoschiumi che io tengo in questo cesto tutto intrecciato molto grande che ho comprato 8 euro da tiger praticamente tengo qua tutti quanti i bagnoschiumi e questo lo tengo tipo per terra in un angolo vicino la mia libreria che ho in camera in modo che siccome è un prodotto che consumo tanto ne utilizzo tanti e li tengo appunto a portata di mano ne ho tantissimi come vedrete fra mini size e size normali ma fin quando io non ne smaltirò un bel po ragazze non se ne parla che di riacquistare bagnoschiumi è proprio la mia ultima il mio ultimo pensiero quello di acquistare i bagnoschiumi al momento vedrete prodotti da supermercato più che altro diciamo che di bio ne ho forse due tre o un paio di mini size perché se non lo sapete ve lo dico comunque in generale per quanto riguarda i prodotti a risciacquo sul corpo non vado tanto all'ince anche se comunque in linea generale preferisco sempre utilizzare prodotti biologici iniziamo perché non se ne parla più allora il primo prodotto che vi faccio vedere è l'ultimo ultra dolce che ho che è questo qui all'all'olio di argan e camelia senza parabeni come sapete questi prodotti sono molto molto buoni scusate il rumore ma questo qua ho giusto finito tanti bagnoschiumi e quindi questo quasi come abbastanza vecchio lo vado subito a uscire quindi non è più scorta ma è proprio un prodotto che utilizzerò riguardo questo ragazze siccome ho fatto e farò da poco cioè ho già pubblicato i video sulla mia skin care del momento e anche sulla hair care e arriverà a breve anche quello sulla body care non vi farò vedere in questo video i prodotti appunto i prodotti che riguardano cioè quelli che ho in utilizzo così appunto da non perdere tempo perché li vedrete direttamente in quei video e ve ne parlerò anche comunque questo qua come vi dicevo è l'ultimo degli scusate ma facendo lo scotch ecco questo qua vi dicevo è l'ultimo prodotto l'ultimo ultra dolce che ho e lo vado a mettere subito in utilizzo i profumi di questi prodotti dell'ultra dolce sono ottimi io ho utilizzato quello lì alla rose al sapone di aleppo ho utilizzato anche li ho utilizzati credo tutti quelli lì veramente sono molto buoni sono dei gel che però sono fanno una schiuma molto cremosa avvolgente sono facili da risciacquare sono 500 ml costano pochissimo quindi li compro ecco perché mi piacciono e poi piacciono tanto anche a lorenzo le profumazioni sono tutte ottime quindi questo qua andrà nei prodotti c'è andrà in doccia lo metto qua poi andiamo avanti vi faccio vedere tutte quante le mini size così andiamo andiamo via perché ne ho abbastanza di mini size fatemi vedere un attimo questo pure ecco qua ecco ne ho un po di mini size vi faccio vedere l'ultimo della mix fits nella profumazione pink fits questo qua ragazze come sapete lo utilizzo io e da 100 ml lo utilizzo per non per proprio lavarmi ma come da buttare sulla va nella vasca per fare schiuma sono buoni questo qua in questo caso non c'è scritto di che cosa sappia però credo sia proprio un gusto frizzantino da quello che posso capire dalla dalla descrizione e quindi lo utilizzo così fanno tanta schiuma alcuni hanno un profumo che persiste anche un po sulla pelle quando appunto vi immergete vi tirare fuori dalla vasca il profumo si sente con alcuni non con tutti ad esempio quello che ho provato a al mango e al frutto della passione li ha io questi coli ho comprati tutti in un set alcuni lo anche le gratia e caterina io li utilizzo così perché appunto l'inci non è non è dei migliori cioè non è buono e li utilizzo così nella vasca poi come che voglio utilizzare anche nello stesso modo sono questi tre della natural natural ex extract scusate oggi non so parlare né italiano né inglese della natural extract che sono appunto degli shower gel anche questi hanno un inci brutto e quindi all'unica cosa è che la cosa che me li ha fatti comprare nonostante l'inci bruttino questo qua è l'inci non so se mette a fuoco ecco fate un fermo immagine che come c'è scritto qui questo prodotto non è testato su animali e c'è scritto noi cerchiamo ricerchiamo alternative diverse non testiamo su animali quindi questa cosa me li ha fatti acquistare sono 150 ml ciascuno io ce l'ho nel burro di karité ciliegia che sono curiosissima di provare e anche al cocco poi come altre mini size o 3 4 mini size di prodotti biologici e in particolare ho lo il lo shower gel della hands on veggies questo qua è all'avocado e alla viola questo qua un marchio vi ricordo che si trova su ecco verde e che sfrutta le proprietà della verdura della frutta in generale per poter appunto creare prodotti biologici poi ho due un prodotto della biolis natura che è uno shower gel al tè verde quello lì tonificante questo qua appunto un prodotto da 100 ml ed è assolutamente vegan non testato su animali è appunto un prodotto biologico al 98 per cento di ingredienti naturali infine o non ho infine scusate ho poi quest'altro mini size della ecos che è da 100 ml anche questa ed è alla malva o estratto biologico di malva scusate se sui prodotti in linea generale vedete lo scotch ma sono prodotti che io ho acquistato da tigota online e poi ho fatto spedire a casa dei miei e poi i miei ne hanno inserito nel pacco che mi dovevano già mandare quindi perché queste marche io qua non le trovo quindi molti di quei prodotti che vedete con lo scotch è perché nella spedizione ovviamente mia madre ha tappato tutti appunto ha scocciato tutti i tappi e gli erogatori quindi questo qua e poi ho quest'altro che uno recentissimo ed è una mini size di balde di mi scusa scusatemi di shower gel della kiwi al bergamotto questa qua è una mini size da 50 ml che era in omaggio con l'acquisto di un tot di di euro in prodotti givi su ecco verde e infine questo qua che ho trovato nel calendario del non nel calendario dell'avvento nella birch box di gennaio ed è il questa schiuma lavante della rituals alla rosa indiana e all'olio di mandorle dolci queste erano tutte le mini size di bagno schiumi cioè non può durare più di dieci minuti allora vado un attimino a farvi un po le marche per marca mi sono rimasti gli ultimi quattro quattro bagno schiumi della palmolive delle linee però quelle là ma sono quattro soltanto sì quattro bagno schiumi della palmolive e sono due così della linea aroma moment e c'è questo qua che è field e massage ed è praticamente al sali del mar morto aloe vera e acqua di menta praticamente ci sono delle piccole micro perle che non so se la camera riuscirà a cogliere comunque c'è scritto che fa una gentile esfoliazione al corpo e poi quest'altro che è sempre 250 ml ed è il film glamorous ed è al blackberry quindi alla oddio alla mora alla vaniglia e al frutto del dragone dragon fruit ecco qua e poi ci sono questi due che erano in un'edizione limitata che le ho comprato praticamente solo per il packaging li ho presi tipo un euro ciascuno erano in offerta e ho preso questo qua che è uno shower gel con l'iris e quest'altro invece che è lo shower gel con il poppy che credo sia non mi viene in mente mai credo sia forse l'orchidea orchidea orchid non mi viene in mente ragazze come sempre scordo sempre questo qua poi ho un prodotto del giardino dei sensi e questo questa volta non della linea bio però questa profumazione io l'ho provata aveva una crema corpo ed è qualcosa di spettacolare ed è l'orchidea romantica questo è un dolce a schiuma il profumo di questo prodotto ragazzi è qualcosa di unico ve lo consiglio 250 ml poi ho un prodotto della sobio ne avevo due di bagno schiumi della sobio uno ce in utilizzo e dopo in utilizzo quello alla vaniglia adesso nelle scorte ho anche questo qua che è quello al latte d'asina di cui sono molto curiosa di questa profumazione al latte d'asina sono molto compatti questi questi bagno schiumi e sono bagno schiuma bagno schiumi da 300 ml ragazzi scusate ma parlo da ore sono stancano mi sento tanto bene perché dal che stavo male sono passata a mi sono ripresa e poi ciclo vi ho detto tutto poi ho un bagno schiuma della libro che si della libro che è dopo questo qua al mono i dettagli di questo anche l'acqua profumata che ho comprato in combo c'è in in un piccolo diciamo set dai broccia appunto però sospettando che venga il bel tempo magari proprio l'estate per utilizzare queste profumazioni poi ho un altro prodotto della sien e ho questo shower cream tropical mango ho utilizzato quello lì alla quella all'albicocca e alla mandorla buonissimo e ho quest'altro questi costano pochissimo per 300 ml poi ho vediamo un attimo vi faccio vedere dei bagno schiumi nivea che ho e sono tre ho questo qui che è un ultimo acquisto ed è infuso con il nivea questo qua crema e olio quindi è una crema infusa con gli oli questo qua in particolare è fiori di ciliegio cioè di blossom e questi sono 250 ml l'ho comprato tipo pochissimo perché altrimenti non ci avrei speso come ho comprato pochissimo questo prodotto che vuoi usare troppo ed è due varianti ed è appunto sempre della nivea questa mousse ed è una mousse praticamente che vi fa la doccia praticamente è un bagno schiuma che però ha una consistenza di una mousse e io l'ho preso questo qua sono tutte e due da 200 ml sono molto pratiche sono bombolette che poi si vanno appunto a shakerare come una schiuma da barba e questa qua è all'olio di mandorle mentre questa qua è invece quella originale con appunto il profumo classico nivea come altri prodotti che invece non sono accoppiati quindi ho soltanto questi ecco qua allora vi faccio vedere due prodotti DAV ed ho il famoso shower gel oil praticamente questo qua è un olio da doccia con olio di argan ed è appunto della DAV questo qua 200 ml l'ho comprato tipo a un pound in offerta e poi quest'altro che è una mini o una mini o un formato piccolino da 250 ml ed è un anche questo della DAV qua c'è scritto nuovo quindi non so se in Italia ci sia però è appunto DAV però è appunto DAV Nourishing Secrets ed è questo qua un un appunto prodotto con olio di avocado ed estratto di calendula quindi questo prodotto qua poi come prodotti singoli ho questo bagno schiuma della super duper che io ho preso al tesco in un appunto supermercato e questo qua è un body wash dalla consistenza mi sembra abbastanza liquido ma dovrebbe essere una crema ed è questo qua con olio di mandorle dolci vaniglia e burro di karité ed è al 97% naturale non ci sono parabene sls e sls e coloranti ed è appunto da 500 ml questo l'ho comprato circa 2 pound poi ho questo prodotto qua che è un prossimo questi due che sono due prossimi in utilizzo e parlo del bagno schiuma della omnia botanica questo qua ha la rosa damascena no scusate la rosa moscheta questo è un prodotto praticamente naturale della omnia botanica questo l'ho preso la ocean mi sembra e poi quest'altro che ho preso invece d'acqua e sapone ed è un bagno doccia dell'erboristica di atena salolo di mandorle dolci questo qua è un 400 ml al 97% naturale poi ho quest'altro che è un ultimo acquisto ed è il bagno bagno doccia al cioccolato di al irresistibile cacao di dell'idea sono 200 ml certificato natu e poi ho quest'altro che mi ha mandato è caterina ed è il bagno fiori all'iris florentina di omnia quindi è un prodotto molto naturale ecco dove non ci sono tutte quante le solite schifezze ultimi tre prodotti è una marca che ultimi tre bagno schiumi cioè non ci credo 16 minuti per i bagno schiumi ragazzi cioè a me sta molto male ho due boccioni da 500 ml di questa marca qua imperial later che è una marca che vendono qui al supermercato che costa pochissimo figuratevi che questi due da 500 ml li ho presi tipo neanche un pound ciascuno e ho questo qua che è calming dice scritto che è nuovo praticamente è al jasmine e vaniglia ed è appunto crema anche questo è in crema ed è al marshmallow e infine ho preso quest'altro che è un nuovo però è in un formato da 250 ml più piccolo sempre di questa marca ed è al cocco e ai fiori di tiaree questa è una profumazione proprio estiva ovviamente questi bagno schiumi sono molto da supermercato e non hanno per niente un buon inci e niente ragazze ho finito questi qua sono tutti quanti i miei bagno schiumi quindi laviamoci per i prossimi 30 anni vi mando un grosso basso e ci vediamo al prossimo video sulle mie scorte ciao